Caro Presidente della Repubblica, caro Premier, ho una domanda da porvi. Tra i compiti del Governo non ci dovrebbe essere anche quello di garantire la mobilità a quei milioni di cittadini pendolari che fanno girare gli ingranaggi del nostro Paese e garantire che ciò avvenga in coerenza con le politiche della sostenibilità. Mi chiamo Rosalba, sono mamma e lavoratrice. Ogni giorno dal 1980 viaggio sul monobinario Roma-Nettuno. Ho scelto da sempre il treno, nella speranza di non inquinare, di arrivare puntuale, di non rischiare sulle strade e di risparmiare. Probabilmente raggiungerei questi obiettivi se i treni di chi lavora fossero una priorità strategica della politica. Evidentemente non è così. Ogni giorno viaggio pressata contro porte guaste, dentro vagoni roventi d'estate con labbrodi d'inverno, con l'odore acre ed e freni che mi intossica. Gli impianti d'aria guassa o con vecchi filtri intasati. Carri bestiame. Il servizio per i pendolari, anziché ad adiguarsi sempre alla maggiore domanda, negli ultimi trent'anni è andato peggiorando. Nel frattempo sono stati inaugurati trionfalisticamente nuovi supertreni e nuovi centri commerciali nelle grandi stazioni. Così, mentre le linee veloci scintillano, quelle dei pendolari sono dei pantani di disagio per milioni di lavoratori e studenti. Trani vetusti, ritardi continui, corse tagliate, decoro sparito, stazioni dismesse, servizi igienici indisponibili, personale di bordo dimezzato, sicurezza assente. Noi pendolari siamo esausti di viaggiare così e non potremmo sostenere ulteriori nuovi disagi. Vorrei fare piazza pulita di questa mobilità insostenibile e delle privatizzazioni del servizio pubblico. Vorrei che la Regione Lazio rispondesse della pessima gestione prestata da Trenitalia, perché questo servizio indecente lo paghiamo con i nostri soldi. I treni, le stazioni, le rotaie sono nostri, dei cittadini e dei lavoratori italiani, non di chi sfrutta il business dell'alta velocità. Grazie a tutti.